salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi parliamo di video sorveglianza vi porto sul canale un prodotto della reolink questo marchio di cui ho già portato altri prodotti sul canale e li trovo davvero super interessanti perché sono prodotti si love cost ma iniziano già essere di buonissimo livello sia come costruzione del prodotto che come materiali utilizzati ma soprattutto dal punto di vista software perché comunque l'applicazione che ci viene data per controllare i loro sistemi di video sorveglianza e ha un sacco di opzioni configurabili e questo ragazzi non è da sottovalutare quando si acquista una videocamera di sorveglianza in questo caso guarderemo la reolink argus pt una videocamera di sorveglianza motorizzata è impermeabile quindi può stare tranquillamente all'esterno sotto la pioggia in qualsiasi condizione meteo lei comunque è abilitata a stare sotto le intemperie ed è una videocamera davvero davvero completa è in grado di registrare in full hd quindi 1080p a ingresso e uscita audio quindi è possibile registrare sia il suono che far uscire la nostra voce usando lo smartphone con l'applicazione dedicata abbiamo la possibilità di inserire una micro sd fino a 64 giga e abbiamo delle batterie da 6.500 mini ampere già incluse poi nel caso vogliate diciamo alimentarlo in maniera supplementare questo il pannello solare sempre della reolink quindi abbiamo un'autonomia della batteria praticamente infinita il pannello solare la manterrà sempre sempre carica però la batteria già di per sé ragazzi può durare fino a sei mesi di carica e poi in base a quello che la utilizziamo però se lei dovesse stare accesa senza che continuiamo a motorizzare a destra a sinistra abbiamo una possibilità massima di sei mesi poi ovviamente il tempo va a diminuire in base a quanto utilizzo facciamo della motorizzazione e quanto diciamo la telecamera continua a rilevare soggetti e fa partire le varie registrazioni e via dicendo però davvero secondo me potete stare tranquilli intorno ai 2 3 mesi di carica senza problemi ma poi se ci volete mettere il pannellino solare tanta tanta roba per collegarla quindi vi basta la rete wifi che avete comunque nella vostra abitazione all'interno della confezione troviamo lei la videocamera l'antenna ovviamente per rinviare e ricevere i segnali qua abbiamo l'interruttore per avviarla e spegnerla poi qua dietro abbiamo lo sportellino in gomma che ci permette di inserire una micro sd e qua così abbiamo sempre sotto a questo sportellino in gomma la presa micro usb per la ricarica poi in dotazione ci viene dato questo supporto che possiamo andare a fiscerare su una parete su un muro o altrimenti usare questa cinghia che ci viene sempre date in dotazione per fissare appunto il supporto a un albero a un palo a una canalina dopo vi faccio vedere appunto l'installazione quando andremo a provare e poi sempre nella confezione troviamo un manuale di istruzioni completo infatti abbiamo anche una cartelletta che lo contiene poi abbiamo il cavo per la ricarica e dei fisher per fissare il supporto e questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione il pannello solare ragazzi qua avete sempre un manuale di istruzioni con la sua cartellettina adesso sposto questo non capisco più qual è quello giusto e qua sotto ragazzi il pannello solare con il cavo e il supporto per andare a fissarlo alla parete allora la telecamera ragazzi è fantastica qualità super come vi ho detto e l'applicazione è davvero davvero super interessante quindi ragazzi adesso andiamo a fare il primo avvio lo configuriamo con la sua applicazione poi andiamo ad installarla e iniziamo a fare qualche prova e vi faccio vedere tutto quello che ci viene dato a livello di possibilità di configurazione appunto all'interno della sua applicazione quindi a questo punto iniziamo a fare la connessione tra la videocamera e il nostro smartphone quindi la sua applicazione reolink quindi per prima cosa dobbiamo entrare nel nostro app store o play store andare a scaricare l'applicazione reolink che è questa quindi io a questo punto andrò a fare apri perché ce l'ho già installata quindi vado a fare apri e in questo momento mi fa vedere l'altra videocamera reolink che è lì proprio di fronte a me che non è lei è quella la è una telecamera fissa anche quella che ho già portato sul canale ho già recensito mentre questa è una telecamera motorizzata ed ho intenzione di metterla in un altro lato o meglio un'altra facciata della casa che poi dopo vi faccio vedere a questo punto basterà andare ad aggiungere la nuova videocamera cliccando sul più qua in alto a destra e andare a scannerizzare il qr code che abbiamo qua sotto ovviamente prima dobbiamo andare ad accendere quindi apriamo lo sportellino qua dietro accendiamo col tastino qua da parte e andiamo a chiudere bene ancora lo sportellino in gomma che va a sigillare appunto per le intemperie la pioggia e via dicendo sentite che fa questo rumore allora lei è pronta per essere connessa alla sua applicazione basterà andare a scannerizzare il qr code qua sotto perfetto a questo punto ci chiede di andare a configurarla con il nostro wifi adesso ci dice se stiamo sentendo questo rumore che stiamo sentendo gli diciamo di sì perfetto vado a selezionare la mia rete wifi che è questa vado ad inserire la mia passo quindi la password della nostra rete wifi andiamo a fare seguente adesso basterà andare a fare scannerizzare alla videocamera il qr code che viene generato all'interno del telefono quindi basterà andare a farglielo leggere perfetto avete sentito che ha letto il qr code e c'è perfetto avete sentito che c'è tutto il messaggio vocale che vi dice quello che è successo e che lei adesso è associata al nostro router quindi all'applicazione e via dicendo quindi abbiamo creato il suo ecosistema a questo punto andremo a fare il seguente quindi abbiamo sentito tutto quello che ci ha detto gli diciamo di sì perfetto adesso l'applicazione è connessa o meglio si sta connettendo al quello che è la nostra videocamera qua ragazzi dovremmo andare a dirgli una password per accedere alla nostra videocamera nel caso dovessimo andare a fargli delle configurazioni particolari andare a rimuoverla poi rimetterla e via dicendo quindi andremo ad inserire una password che vogliamo quindi andiamo a mettere che ne sono due tre quattro cinque sei sette otto giusto per capire come funziona il discorso password ok denomina il dispositivo quindi la chiameremo camera motorizzata perfetto perché comunque non so se ve l'ho detto all'inizio lei ha una rotazione fino a 355 gradi quindi arriva quasi a 360 gradi di rotazione o meglio di inquadratura allora facciamo invio facciamo seguente ci spiega il pire cioè rilevamento dei movimenti cioè ci dà tutte le indicazioni base per quanto riguarda appunto la fotocamera e tutto questo ce lo dice in italiano ed è un'altra cosa importante ragazzi avere comunque l'applicazione che ci parla in italiano avanti perfetto e adesso vedete che ho terrazzo che la videocamera che mi stava inquadrando che mi avete visto prima inquadrato quindi quella videocamera che ho la sempre dell'area o link mentre qua sotto vedete che abbiamo camera motorizzata se io vado adesso a cliccarci sopra ragazzi adesso lei è connessa e se faccio così ovviamente vedete che inquadro la videocamera e se faccio così mi inquadro a me ribaltato aspettate che mi giro perfetto ed ecco qua che sono io a questo punto direi di andare ad installarla e poi vi faccio dell'applicazione con la telecamera installata allora prendiamo il supporto la videocamera e andiamo ad installarla quindi vado a mettere il supporto in questa posizione per avere appunto un'inquadratura di tutta quell'area del giardino ovviamente questo è provvisorio poi andrò a mettere un fissaggio nella parete ovviamente con i fisher questo è provvisorio giusto per farvi capire come funziona anche questo discorso del laccetto è perfetto così vedete è super fisso non si muove è stabilissimo a questo punto fissiamo la telecamera quindi avvitare qua andiamo a mettere l'antenna quindi la telecamera installata adesso andiamo ad utilizzarla con la sua applicazione perfetto allora l'applicazione vedete sta inquadrando il pavimento quindi andando cliccare il tastino qua sotto pt z ci viene questa specie di joystick che ci permette di andare a muovere la telecamera quindi potremmo andare ad inquadrare tutto quello che vogliamo muovendo la telecamera in tutte le direzioni e vedete che sto inquadrando tutta la parte di giardino quello che poi è quello che voglio controllare quindi una volta inquadrato e che posso spostarmi a sinistra a destra cioè avere l'inquadratura di un'area di giardino davvero davvero importante avete visto ovviamente che c'è un po di ritardo ma quello è dovuto a tutto quello che è il segnale del modem e poi una cosa importante che comunque la videocamera è messa nella parete più lontana possibile dal modem perché comunque il modem è qua nella parete dove sono io mentre la videocamera è praticamente nell'altra estremità della casa e in questo schermato una cosa importante che abbiamo è la possibilità di scegliere la qualità del ritorno video cliccando su love vedete possiamo scegliere fluido che decide lui in base a quello che è le prestazioni del nostro diciamo della nostra rete wifi se invece facciamo 1080p metterà la risoluzione massima però ovviamente avremo sicuramente un lag maggiore nel muovere la telecamera perché il ritorno video sarà davvero molto più lento ma la risoluzione a livello di qualità è sicuramente migliore però io di solito lascio su fluido almeno decide lei che cosa fare e come impostare la videocamera appunto in base al nostro segnale della nostra rete wifi poi abbiamo videocamera fotocamera che vuol dire che andando a cliccare questi simboli vado a registrare o scattare una foto direttamente nello smartphone poi qua vedete che abbiamo il simbolo dell'autoparlante cosa vuol dire che se io clicco qua sento quello che la telecamera riceve a livello di audio quindi se c'è dei rumori o meno li sento nello smartphone poi vedete che abbiamo le due barrette che è la pausa quindi se io clicco sulla pausa vado a mettere in pausa la videocamera poi qua sotto abbiamo parla vedete che se io vado a cliccare qua poi clicco il microfono adesso se io parlo nella videocamera uscirà la mia voce adesso invece entriamo proprio in quello che è le configurazioni della videocamera a livello di menu ed è una cosa di quelle secondo me che va tenuta in considerazione quando si acquista la videocamera perché avere un menu che ci dà tante possibilità a livello di configurazione è una cosa davvero importante allora se io vado a cliccare sull'ingranaggio ok vedete che avete la videocamera abbiamo in alto la batteria il la rete wifi poi qua abbiamo il display cioè quello che stavamo guardando quindi vedete giorno note si vado a cliccare qua vado a mettere note quindi lei andrà sulla modalità a infrarossi quindi per una visione notturna ovviamente adesso non c'è la visione notturna perché è giorno poi abbiamo l'anti sfarfallio cioè a quanti hertz vogliamo la regolazione poi abbiamo dove vogliamo il nome della videocamera se in basso a destra vedete che sopra abbiamo reolink in basso sotto abbiamo camera motorizzata e in alto in mezzo abbiamo la data quindi tutte queste cose le possiamo modificare e spostare all'interno dell'inquadratura poi se io vado a cliccare qua e faccio remuovo posso andare a selezionare un'area dell'inquadratura della videocamera che non voglio che si veda perché se c'è un magari un particolare un che ne so un qualcosa che non voglio che venga mai registrato la videocamera lo vado a selezionare col dito quindi vado a tirare vedete questo rettangolo quindi quella parte lì sarà oscurata quindi non si vedrà nella registrazione quindi faccio annulla faccio annulla ok torniamo indietro qua adesso abbiamo impostazione peer questa ovviamente è una cosa importante perché è l'impostazione appunto di quello che è il rilevamento del movimento quindi andando a fare impostazione peer che possiamo attivare o disattivare ovviamente attivato è quello che per cui ci serve questa videocamera cioè rilevare se c'è dei movimenti sospetti possiamo andare a fare programma quindi programmare gli orari e i giorni per cui vogliamo che venga attivato il peer perché magari durante il giorno non ci interessa se siamo a casa e siamo noi che magari se no continuiamo a far scattare l'allarme quindi è inutile quindi possiamo decidere che farlo partire solo di notte o solo durante determinati orari del giorno quindi questa è una parte che è davvero interessante perché tante videocamere a basso costo non hanno questa regolazione quindi o è attivato o è disattivato poi dopo siamo noi che continuiamo a farlo scattare tipo quella lì che di fronte a me della Reolink lei ce l'ha anche lei ovviamente perché l'applicazione è la stessa e avendola qua sul terrazzo durante il giorno non mi interessa che rilevi i movimenti perché sono io che sono durante il giorno sul terrazzo mentre da un certo orario in poi mi interessa che rilevi i movimenti poi qua abbiamo sensibilità vedete che questo ci dà della possibilità di regolare due cose la sensibilità appunto perché se non vogliamo averla troppo sensibile quindi che non scatti per niente l'avviso di allarme e poi attivando lo switch qua sopra si ha la possibilità praticamente di dire alla videocamera di ridurre i falsi allarme questo vuol dire che se la videocamera è posta davanti a una pianta a una tenda quindi queste cose che si muovono tanto solo se c'è anche solo un po' di arietta un po' di venticello farebbe sempre scattare la videocamera quindi lei praticamente capisce che quegli oggetti sono sempre lì si muovono sempre quindi non li calcola più in quello che poi l'allarme ci deve dare poi torniamo fuori ok ritorniamo al menu abbiamo registra registra cos'è che se abbiamo inserito una micro sd nella videocamera ogni volta che scatterà l'allarme quindi ogni volta che la videocamera rileverà un movimento sospetto registrerà un video sulla micro sd quindi video da 8 15 30 secondi in base a quello che noi vogliamo o preferiamo avere a livello di lunghezza video poi qua sotto abbiamo push notification cosa vuol dire che se io vado attivare push notification nello smartphone e anche via email dopo vi faccio vedere c'è anche la possibilità appunto qua sotto vedete email di configurare la vostra email vi arriverà la notifica ed è istantanea cioè push notification vuol dire che vi arriverà la notifica istantaneamente nello smartphone che è stato rilevato un movimento sospetto e stessa cosa se volete tramite email poi suono allarme cos'è la videocamera quando rileverà un movimento emetterà anche un suono quindi proprio un allarme che dura poco perché dura tipo che ne so cinque secondi ma è proprio un allarme adesso vi faccio vedere anche questo vado ad attivarlo e qua possiamo personalizzare il suono di default e abbiamo un suono classico rumore da sirena se vogliamo ma se faccio suono personalizzato posso andare a registrare qualsiasi tipo di suono che voglio che sia il mio allarme ovviamente la lunghezza è solo di cinque secondi e poi qua sotto come ultima voce abbiamo tutte altre configurazioni vedete cambio password la data e l'ora registrazione audio se vogliamo che registra anche l'audio meno e poi se vogliamo o meno attivate le luci a led in base anche all'orario di utilizzo sei giorno o sei notte quindi possiamo lasciare così di default io lascio su auto poi torniamo indietro e quindi ragazzi questo è tutto quello che ci viene dato dall'applicazione vedete che avete un sacco di possibilità e di configurazione adesso volevo provare a andare a passare davanti alle telecamere per farvi vedere che arriva la notifica push direttamente nello smartphone quindi andiamo così vi faccio sentire anche la sirena ovviamente ha un volume abbastanza basso anzi se registrate voi un suono di vostra diciamo preferenza potete registrarlo con un suono più alto perché di default la sua è abbastanza bassa quindi adesso passo davanti alla videocamera di sorveglianze vediamo se mi arriva la notifica push sentiamo anche il suono della sirena e vi dico subito che non è forte il suono della sirena lo dico subito allora passiamo qua davanti perfetto vediamo se arriva ok vedete che nel telefono mi è arrivata subito la notifica che la camera motorizzata ha suonato l'allarme e il rumore della sirena e questo è ripasso indietro ed ecco che è uscita ancora la notifica quindi avete visto come funziona funziona davvero davvero bene come vi ho detto non è una videocamera di sorveglianza di quelle super economiche però ha un prezzo accessibile e funziona davvero benissimo quindi adesso volevo farvi vedere un'ultima cosa ritorniamo da dove siamo partiti perfetto e volevo farvi vedere entrando sempre nell'applicazione reolink come vedete ho sempre la videocamera di videosorveglianza motorizzata in diciamo aperta in questo momento si vado a cliccare il simbolo con i quattro quadratini qua in alto a destra e vado a selezionare vedete che mi farebbe vedere quattro videocamere quindi se io avessi quattro videocamere della reolink li vedrei tutte quattro qua contemporaneamente infatti vedete che ho quella la che mi sta inquadrando vi saluto ok e poi qua invece a destra o quella motorizzata con montato dietro alla casa quindi questa cosa un'altra cosa secondo me è fighissima di avere nella schermata diciamo principale la possibilità di vedere quattro videocamere contemporaneamente quindi sempre super comodissime da visionare quindi ragazzi avete visto che prodotto secondo me top che è questa reolink argus pt un prodotto che vi straconsiglio come tutti i prodotti reolink perché come vi ho detto sono nella giusta fascia di prezzo nel senso che non sono di quelli super low cost non sono di quelli super costosi ma sono proprio a metà nel senso che iniziano essere dei prodotti di buon livello ad un prezzo sempre accessibile vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione spesso sono pure in offerta con il coupon sconto quindi la possibilità di applicare lo sconto direttamente quando acquistate perché lo sconto che viene dato direttamente da amazon quindi tutti i link qua sotto in descrizione e se il video ragazzi vi è stato utile vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitante prime spoiler voli in fpb stampe 3d sempre se vi va iscrivetevi al mio canale tregamo offerte per sostenere questo canale dove porto tante offerte riguardanti i prodotti tipo anche questi dell'aerolink ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o una novità ciao